allora benvenuti a tutti in questo nuovo podcast in cui parleremo finalmente di attori non più racconti come ci siamo lasciati un po alle spalle fino a questo momento è l'attore di cui parleremo oggi un attore che ha fatto la differenza fino a questo momento in tutta la storia del cinema senza alcun dubbio si porta con sé un po di magia come fanno un po tutti gli attori all'interno del loro mestiere soprattutto quelli che hanno lasciato un'impronta dentro di noi l'attore di cui sto parlando è senza dubbio alcuno robin williams medicina legge poesia ingegneria sono nobili professioni certo necessari al nostro sostentamento ma la poesia la bellezza l'amore sono queste le cose che ci tengono veramente in vita era il 1991 quando sentiamo queste parole e le sentiamo all'interno di un film che prende il nome dell'attimo fuggente dove il protagonista principale anche se fa in realtà da contorno a tutti gli studenti della scuola a cui insegna è il professor Keating interpretato per l'appunto da Robin Williams il film che porta con sé una matrice a livello scritturale traordinaria perché tra l'altro sarà vincitore del premio Oscar proprio nello stesso anno con la sceneggiatura scritta anche da Peter Weir che sarà anche il regista dello stesso film è il regista poi di un film che molti di voi sicuramente conoscono ed è The Truman Show interpretato da Jim Carrey porta con sé diciamo così un filo di più che un filo di malinconia e nostalgia e soprattutto è un fulmine a ciel sereno per quanto riguarda la scrittura drammaturgica l'attimo fuggente è il film che lancia definitivamente Robin Williams all'interno del panorama artistico cinematografico era stato sicuramente un elemento molto importante all'interno del contesto americano per quanto riguardava soprattutto la stand-up comedy ed è da lì che comincia la carriera di Robin Williams quando comincia a muovere i primi passi ed è un attore che più che un attore era un comico che cercava semplicemente di far ridere gli altri lui stesso dirà che se la giornata riesce a migliorare la giornata di qualcun altro semplicemente con una parola con un modo di interagire diverso, nuovo, lui si sentirà anche meglio e avrà regalato qualcosa a qualcuno ed è semplicemente questo che fanno gli artisti quello che devono fare, non soltanto i comici migliorare le giornate degli altri da renderle più semplici anche quando tutto sembra crollare intorno a noi Robin Williams però come dicevamo non comincia con l'attimo fuggente soprattutto per quanto riguarda il livello cinematografico ma comincia alla stand-up comedy la stand-up comedy che è questo modo di vedere la comicità con un solo attore sul palco un microfono in mano solitamente neanche una sorta di ricerca dal punto di vista fisico dell'attore non c'è una ricerca fisica nell'esposizione del concetto ma sono le parole che fanno da flusso di coscienza e trascino il pubblico verso di sé e sicuramente Robin Williams sotto questo aspetto ha nutrito diciamo gran parte della sua carriera soprattutto per quanto riguarda gli inizi e noi iniziamo a conoscerlo soprattutto in Italia perché quando lui faceva stand-up comedy non soprattutto in quegli anni 80 anni 90 in cui lui il suo fulcro il fulcro artistico di Williams si espande a livello planetario non si avrà con la stand-up comedy ma quando arriva in una sitcom che prende il nome di Morgan Mindy conosciutissima soprattutto la sigla italiana ai tempi Robin Williams era doppiato anche da Oreste Lionello storico doppiatore di Woody Allen tra gli altri ma soprattutto conosciuto in Italia sul finire degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000 per le sue interpretazioni comiche al bagaglino Robin Williams segna un punto importante con Morgan Mindy questa sitcom che veniva registrata un po' come vengono registrate gran parte delle sitcom che si vedono in America tra le altre sicuramente Friends, I Met Your Mother oppure The Big Bang Theory queste serie tv sono registrate all'interno di un piccolo teatro quindi col pubblico presente e gli applausi ma sarà anche il momento in cui l'ascisa di Robin Williams coincide col suo percorso negativo perché un uomo fatto sicuramente di luci e ombre coincide allo stesso tempo quindi nel momento in cui conosce la droga le sostanze stupefacenti e infatti purtroppo in quel periodo molto spesso alla fine delle riprese quindi quando venivano terminate queste riprese lui andava a, mi dispiace utilizzare questo termine ma per rendere chiaro il concetto si pippava di cocaina insieme a un gruppo ristretto di amici comunque e vediamo lì questa sorta di escalation in negativo per quanto riguarda questo personaggio perché Robin Williams in questo preciso momento storico della sua carriera iniziando a drogarsi conoscerà un aspetto che è quello ancora qui sottile della depressione la depressione che è forse uno dei mali più grandi che conosciamo all'interno di questo mondo e nonostante ciò lui continuava a farne abuso avendo rischiato anche l'overdose in alcuni dei casi ciò che poi va a mutare proprio l'essenza di Williams nel rapporto con la droga sarà un evento tragico a cui lui prenderà parte soltanto da testimone perché proprio uno dei suoi amici che faceva parte di questa combricola morirà di overdose e quindi lui si allontanerà temporaneamente da questo mondo l'uso delle droghe comunque ha continuato a far parte per tutta la sua carriera e sicuramente se ne poteva fare anche a meno ma anche questo va a rappresentare questa sorta di personaggio che per noi che lo vedevamo dal pubblico soprattutto in un determinato momento storico quegli anni 90 che sono stati segnati da Jumanji Hulk Capitanoncino o anche l'uomo bicentenario Jacob il bugiardo la leggenda del re pescatore vanno a rappresentare un po' quell'iconica figura che era Robin Williams che però ci dava veramente un mondo attraverso i suoi occhi diciamo che penetravano proprio l'anima sotto determinati aspetti aveva poi questi occhi molto chiari e sotto invece a altri aspetti era un uomo pieno di ombre molto spesso si è parlato nel corso della carriera che l'attore deve essere quando è straordinario è anche maledetto però diciamo che chi non lo coglie purtroppo non lo sa diciamo non conosce perfettamente il concetto Robin Williams diventa però famoso prima di tutti i film che abbiamo elencato con un film in particolare che è Good Morning Vietnam nel 1989 questo film è un film molto interessante Williams non era stato che fino a quel momento aveva semplicemente fatto stand up comedy e Mork & Mindy quindi un attore comico sotto tutti gli aspetti un attore da sitcom viene scelto per questo personaggio in un film completamente drammatico ora l'interpretazione drammatica di Robin Williams all'interno di questo film può essere corretta sotto diversi aspetti perché forse è un oggetto esterno molto lontano dalla condizione della guerra in Vietnam in cui viene inserito nonostante ciò il suo personaggio corpo esterno anche lui e qui è la cosa che sorprende è lontano dalle tematiche della guerra vietnamita però quello speaker che lui va a interpretare riesce a rendere leggera e piacevole la pellicola sotto determinati aspetti un tema pesante che non si prende troppo sul serio ed era questo il gioco che faceva lui questo speaker come dicevamo che va a interpretare diciamo così con leggerezza ed ironia tutto ciò che circonda i soldati in quel momento storico che riguardava per l'appunto gli Stati Uniti d'America la guerra in Vietnam ha segnato poi storicamente come sappiamo il mondo è un esempio chiaro che possiamo vedere anche nel nostro cinema italiano basta pensare al film uno degli ultimi film che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero perché poi non ce ne sono stati tantissimi dopo di questo e soprattutto ci ha portato il premio come miglior attore quando Roberto Benigni per l'appunto impazzia gli Oscar anche lì un comico un corpo esterno inserito in una situazione drammatica l'estremo che incontra un altro estremo e che viene comunque interpretato con un modo abbastanza chiaro sotto tutti gli aspetti quindi diciamo così è un filone che si era andato poi a seguire ma già tutto ciò parte da molto prima parte da Charlie Cepin nel Grande Dittatore dove vi è questa interpretazione in un momento storicamente molto più complesso dove storicamente vi è questa parodia che non è più una parodia perché diventa l'interpretazione dell'apice drammatico che conosce la comicità ed è quello l'aspetto che noi andiamo a rintracciare sotto sotto queste pellicole sicuramente i film che hanno segnato di più la nostra infanzia li abbiamo già nominati e sicuramente sono Jumanji che non ha nulla a che vedere col Jumanji di oggi quindi consiglio strettamente semplicemente di vedere quel Jumanji e poi Huck allora Huck credo credo sinceramente che abbia fatto la storia del mio modo di vedere il cinema perché vedere questo Peter Pan che grande che abbia che ha dimenticato l'isola che non c'è non fa altro che farmi sentire o fa sentire lo spettatore quasi inerme al fatto che prima o poi la tua vita debba cambiare e non è possibile rimanere per sempre nell'isola che non c'è ma nonostante ciò noi non dobbiamo mai dimenticare che esiste e dobbiamo farci accompagnare da lei conservare sempre quel bambino che abbiamo dentro ed è quello che ha fatto Robin Williams all'interno di tutto l'arco della sua carriera Robin Williams ci tengo a sottolinearlo negli anni 80-90 veniva intervallato nel doppiaggio da Carlo Valli e da Marco Mete entrambi avevano un timbro di voce che devo essere sincero molto spesso non si confondeva nel senso era come sentire quasi sempre lo stesso attore e questo diciamo così è un vero complimento che va fatto alla direzione del doppiaggio che vi era in Italia a quei tempi che comunque riuscivano a distillare anche le divisioni in maniera corretta Huck segna un aspetto molto importante tra l'altro Huck ha un cast strepitoso con Dustin Hoffman e Julia Roberts tra gli altri all'interno dell'opera cinematografica e soprattutto c'è da sottolineare come in realtà questo film diretto da Steven Spielberg porti con sé anche degli scontri all'interno del set perché Dustin Hoffman e Robin Williams molto spesso non andavano d'accordo e comunque non vi era quella sorta di rispetto tra i due all'interno delle interpretazioni questo non poteva far altro che migliorare lo scontro capitano uncino Peter Pan mentre per quanto riguarda l'aspetto diciamo così di collaborazione si va invece a minare sotto tanti aspetti comunque la pellicola ebbe un successo strepitoso che poi verrà conoscerà diciamo così il suo apice storico anche oggi nell'anno in cui ci troviamo adesso chi non ha visto Hook credo che non abbia avuto un'infanzia comunque la cosa molto importante che dobbiamo andare a sottolineare quando parlavamo poco fa di drammaticità e comicità che si vanno a mescolare a miscelare in maniera corretta all'interno delle interpretazioni di Williams conosce il suo apice però in un film ben determinato questo film non può che essere Mrs. Doubtfire Mrs. Doubtfire parte come un film dove lui fa le voci in originale è qualcosa di pazzesco il suo modo di imitare di fare la parodia di qualcosa è veramente più che oltre le righe è straordinario però Mrs. Doubtfire è il film più drammatico che abbia mai visto di Robin Williams semplicemente perché porta l'estremizzazione di un concetto un padre amorevole sotto tantissimi aspetti fa di tutto pur di vedere i figli e vedersi da donna e non facendosi riconoscere ci sono delle scene che fanno morire da ridere all'interno soprattutto quella della cena dove lei comunica a Mrs. Doubtfire che si sposerà con l'attore interpretato con il personaggio interpretato da Perse Brosnan ed è veramente bellissimo sotto aspetti sotto gli aspetti comici ma una vena drammatica surreale quasi in determinati aspetti nonostante tutto questo molto spesso Robin Williams veniva criticato perché andava a realizzare film cosiddetti lacrimosi la maggior parte dei casi interpretava sempre il medico lo psicologo e veniva definita questa cosa come un modo di rappresentare i film cosiddetti lacrimosi ovvero di far piangere a qualunque costo parentesi il film Patch Adams è stato criticato in maniera terribile anche dallo stesso Patch Adams è un film molto carino con dei difetti sicuramente ma che ha lasciato dietro di sé uno strascico davvero molto importante interpreta anche il ruolo del medico psicologo all'interno del film al di là dei sogni e al di là dei sogni è uno di quei film che sicuramente mi ha colpito di più perché il gesto allora a parte che ha sicuramente dei piccoli errori per quanto riguardava la regia la scenografia ma al di là dei sogni in questa rappresentazione del paradiso come fosse un dipinto ed è veramente apre gli occhi sotto un certo aspetto c'era anche Cuba Gooding Jr che è stato un grande attore anche di serie B dei film degli anni 90 che interpreta un personaggio veramente ad alti livelli e questo è perché sicuramente affiancare Robin Williams ti porta a salire sotto determinati aspetti per il resto poi c'è sicuramente la leggenda del re pescatore anche lì una critica perché in questi film in questa accoczaia di film che più che accoczaia è questo mosaico di film che si vanno a realizzare intorno agli anni 90 vi era sempre una critica il re pescatore porta Robin Williams a un'interpretazione folle magistrale sotto determinati aspetti tant'è vero che molta della gente gli chiederà ma perché non fai un altro re pescatore e Robin Williams si ritrova a rispondere se io avessi l'opportunità di fare ogni anno un re pescatore siete sicuri che io non lo farei è un'interpretazione che non lascia il tempo che trova è un'interpretazione unica e non può ricapitare ogni giorno in determinate circostanze uno dei film che già cominciano nella sua fase calante è magari Jacob il bugiardo ma verso la fine degli anni 90 il film che segnerà definitivamente l'ascesa drammatica e quindi l'abbandono definitivo della comicità di Robin Williams ma non definitivo in un determinato senso perché comunque vi è sempre quella sorta di aspetto di improvvisazione che vanno a far parte di un cerchio ancora più grande dove la comicità e la drammaticità convivono il film di cui stavo accennando è sicuramente senza dubbi di alcuno Will Hunting Genio Ribelle sarà il film che porterà Robin Williams a vincere il suo primo Oscar nonché unico Oscar come miglior attore non protagonista sicuramente ciò che segna questa vittoria è la sua interpretazione con una naturalezza disarmante ecco molto spesso la maggior parte degli attori prettamente drammatici ricerca la naturalezza in cose tecniche e il tecnicismo non sempre ti porta alla naturalezza la naturalezza o si ha o non si ha nel mondo della recitazione e c'è poco da fare nell'andarla a ricercare questo concetto di alienazione che molto spesso viene portato avanti dagli attori ci segna anche nel livello degli studi ci segna perché in qualità di attori ma non sempre la strada corretta è quella del tecnicismo certe volte basterebbe essere se stessi ed essere se stesso nell'improvvisazione che Robin Williams fa nel dialogo con Matt Damon sulla moglie che scorreggia è sicuramente ciò che poi gli porterà lui all'Oscar ma non è solo quello è un'interpretazione magistrale sotto tutti gli aspetti e veramente non trovo le parole quasi a definire quell'interpretazione vi dico soltanto che Will Hunting è un film che dovete assolutamente vedere tra l'altro ci sono un giovanissimo Matt Damon e un giovanissimo Ben Affleck come co-protagonisti anzi in realtà i propri protagonisti sono Ben Affleck e Matt Damon e poi subentra Robin Williams nella sua interpretazione un'interpretazione che ha fatto la storia del cinema e l'Oscar è semplicemente la testimonianza di tutto ciò Robin Williams e poi appena finiscono gli anni 90 diciamo così subisce una crisi esistenziale parlavamo del ritorno alle droghe che le droghe torneranno alla fine degli anni 90 nella vita di Robin Williams che tra l'altro nel frattempo ha avuto anche tre matrimoni il primo il più breve di tutti poi il secondo la donna che aveva sempre amato e poi il terzo da questi matrimoni nasceranno tre figli e uno di questi prenderà il nome di Zelda ed è bellissimo l'avete sicuramente visto in qualche pubblicità come lui quando aveva questo barbone quasi da leggenda da re pescatore in cui parlava pubblicizzava il gioco The Legend of Zelda proprio perché era un appassionato di questo videogioco con protagonista Link in cui doveva salvare la principessa Zelda e aveva dato il nome a sua figlia quindi sul finire dagli anni 90 inizio anni 2000 comincia una vera e propria crisi depressiva di Robin Williams con il ritorno alle droghe i cambiamenti repentini all'interno della sua vita amori che finivano tradimenti tantissimi tradimenti quelli che ha portato avanti Robin Williams soprattutto col suo primo matrimonio perché era sì sposato con lei con sua moglie ma praticamente non l'ha mai amata forse proprio la prima moglie non l'ha mai amata la seconda sì ma cacciandosi in situazioni un po' particolari il loro amore sia andato pian pianino frantumando poi la terza moglie sarà quella che sarà con lui fino alla fine dei suoi giorni gli anni 2000 sono terribili sono terribili proprio terribili nonostante lui crei questa sitcom da produttore non ricordo il titolo in questo momento ma veramente terrificante una pessima interpretazione era quasi perso nel suo sguardo parlavamo all'inizio di penetrazione dell'anima attraverso i suoi occhi ok quello non esisteva più non esisteva più niente perché la depressione lo stava pian pianino mangiando da dentro ed è una situazione che portiamo avanti in maniera terrificante e poi sicuramente quei tre film sì carini sì non trovo un'altra definizione che non sia carini con protagonista Ben Stiller e anche Rami Malek che poi vincerà all'Oscar con l'interpretazione di Freddie Mercury di Una Notte al Museo Una Notte al Museo è un film carino un film per famiglie così per intenderci da che consiglio comunque di vedere perché non è niente di male ma non vi è alcuna ricerca specifica e soprattutto Robin Williams in questo caso doppiato nuovamente da Marco Mete che soprattutto negli anni 2000 lo doppierà di più rispetto a Carlo Valli anche se aveva doppiato Hook indeterminati non indeterminati aveva doppiato anche Hook diciamo così diventerà il doppiatore definitivo di Robin Williams questi tre film sono gli ultimi tre film di Robin Williams perché purtroppo nell'agosto del 2014 deciderà di togliersi la vita gli avevano diagnosticato il Parkinson ed è una cosa che oltre a tutti i problemi che portava con sé dal punto di vista psichiatrico come la depressione come il modo stesso di interpretare la vita l'avevano segnato e una volta che gli hanno diagnosticato questa malattia è come se non avesse più retto non avesse più capito cos'era per lui realtà o finzione quello che penso io è che lui ci abbia portato in un mondo dove realtà e finzione coincidono coincidono perfettamente perché tutti saremmo voluti essere Peter Panda Grande tutti saremmo voluti essere quel medico che rinasce alla vita quel medico che lotta quell'uomo che affronta l'inferno per andare a riprendere la moglie quel professore che fa di tutto pur di dare libertà alla poesia ecco Robin Williams era questo era questo ed era molto di più e quando l'abbiamo perso non abbiamo perso soltanto un attore abbiamo perso un amico un fratello uno zio una tata un medico e metteteci quello che volete perché Robin Williams è la storia del nostro cinema ma Grazie a tutti.